Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Raimondo Todaro ha lasciato amici. Questa è la notizia che da qualche ora circola ovunque. Stando a un'indiscrezione dell'ultima ora, il professore di ballo ha preso questa decisione per il bene della sua famiglia. I fan di amici sono in gran subbuglio per l'addio improvviso di Raimondo Todaro. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e pur non essendo ufficiale ha scatenato il caos. Oltre ad essere partito il totonomi sul suo sostituto, in molti si sono chiesti il motivo di tale decisione. Perché ha lasciato amici? C'è di mezzo la moglie Francesca Tocca? A spiegare perché Raimondo Todaro ha lasciato amici è stata Dejanira Marzano. L'esperta di gossip via Instagram ha fatto sapere. Lui è andato perché deve dedicarsi a delle cose personali, che ora hanno la priorità. La terribile non ha aggiunto altri dettagli, ma i fan hanno iniziato a fare alcune ipotesi. Raimondo ha lasciato amici perché ha delle cose personali di cui occuparsi, ma un dettaglio sta facendo sognare i fan. Dejanira ha aggiunto un bel cuoricino rosso, per cui di mezzo deve esserci Francesca Tocca. Possibile che la ballerina sia incinta? Al momento questa è l'ipotesi. Grazie a tutti.